farvi vedere un tweak che sarà molto utile a chi ha il tasto home guasto e quindi non può uscire da un'applicazione o da un gioco con appunto il tasto home dell'iPhone allora andiamo in insidia, su cerca e digitiamo VOM il tweak è gratuito e lo trovate nel repository di Big Boss allora installiamo questo tweak e sarà già attivo e praticamente come potete vedere va a sostituire il tasto home guasto e come notate se lo spostate al di sopra della metà dello schermo diventa un rettangolino che dà la possibilità appunto di spegnere il telefono, lo schermo e se viene portato poi al di sotto invece funziona alla funzione del classico tasto home se viene pigiato due volte apre il multitasking e se viene pigiato una volta vi porta alla schermata home ci sono un paio di impostazioni che potete cambiare come per esempio impostarlo nella lock screen appunto scegliere se farlo diventare rettangolo o rotondo tenerlo in tutto lo schermo rotondo o tenerlo tutto quadrato e poi ovviamente c'è l'opacità più opaco o più trasparente è molto utile per chi ha appunto il tasto home guasto può essere molto di aiuto se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e così mi aiuterete a poter fare altri video grazie, a presto, ciao